Ben ritrovati nel nostro podcast in pillole. Attenzione perché la Apple si è appena giudicata il brevetto per un eventuale iPhone pieghevole. Chissà che sia la volta buona, no, questo di questo settembre dove potremmo vedere finalmente un iPhone che si piega. D'altronde Apple è già drasticamente in ritardo rispetto a tutti i suoi principali concorrenti, mi viene da pensare a Huawei, mi viene da pensare a Samsung. Sta di fatto che ha presentato appunto un brevetto nel gennaio del 2019 che soltanto poche ore fa, diciamo, è stato approvato e passerà insomma come possibile nuovo device. Ecco, il dispositivo che hanno deciso di brevettare sarà pieghevole sul lato corto e quindi si chiuderà quasi come un libro. Ci viene da pensare un po' ad un tablet e quindi insomma anche appunto se pensiamo al Mate X o al Galaxy Fold molto probabilmente saranno simili. Non solo perché quello di Apple dice che avrà anche una piegatura che gli permetterà di chiudersi in tre parti, quasi come fosse una S. Beh, insomma, ci sembra assolutamente anche non facile da capire molto bene, no? Se ci mettiamo qua a pensare e a ragionare come sarà questo nuovo device non lo sapremo. Chiaramente dovremmo aspettare sicuramente fino a settembre ma magari ci toccherà aspettare anche oltre perché forse andare a questo settembre probabilmente non saranno pronti al lancio di questo nuovo device. Sta di fatto che noi attendiamo chiaramente con ansia perché come si direbbe in gergo Apple sei già in ritardo. Quindi muoviti perché insomma chiaramente tutti i tuoi più grandi concorrenti che finora non hai temuto beh, ti hanno incurva, ti hanno sorpassato bene e quindi stiamo attenti perché diciamo che il primato, no? Tra virgolette, chiaramente tra le tante critiche che si ricevono ogni giorno comunque sia il primato per il telefono più bello, migliore, eccetera quest'anno potrebbe non essere più tuo.